Nicola Canonico intende affidare il progetto tecnico in mani esperte e sapienti. Non c'è ancora il nome di quello che sarà il nuovo direttore sportivo del Foggia, ma ciò che appare definito è l'identikit navigato, conoscitore della categoria e soprattutto che abbia vinto. Non a caso sembrerebbe che lo stesso Canonico abbia allacciato nei giorni scorsi un dialogo con Faggiano, che ha poi ceduto alla corte del Catania. Profilo importante dunque quello che ricerca il presidente Rossonero, che in verità sta provando a tenere blindata ogni trattativa, ma come sempre accade in questi casi le indiscrezioni circolano inevitabilmente. E tra i nomi accostati al Foggia ce n'è qualcuno in maniera particolare che stuzzica la fantasia dei tifosi. Luca Leone, ex DS della Ternana, che a suon di record sbarcò in Serie B tre anni fa, e uno di questi, un altro, è l'ex Venezia Mattia Collauto. E chissà che non sia proprio uno dei due a prendere il posto di Emanuele Belviso, che comunque resterà nel club. La scelta del nuovo DS darà poi il via libera alla programmazione. Dal referente del progetto tecnico dipenderà anche l'individuazione della guida tecnica. Anche qui tanti i nomi accostati al Foggia, ma il nuovo allenatore arriverà solo dopo la scelta del direttore sportivo. C'è poi uno zoccolo duro che andrà integrato con nuovi calciatori in grado di alzare l'asticella delle ambizioni di un Foggia che nella prossima stagione punterà ad essere protagonista. Tra i punti fermi c'è Vincenzo Millico, così come Tascone, Salines, Vezzoni, e poi ancora Santaniello, Perina, Marzupio e Carillo, questi ultimi due, reduci da lunghi stop a causa di gravi infortuni. Ovvio che le scelte, anche sui calciatori attualmente sotto contratto, saranno orientate dalle idee di chi sarà chiamato la guida del progetto tecnico. Schiarite dovrebbero giungere a stretto giro. Già entro la settimana la piazza potrebbe conoscere il nome del nuovo direttore sportivo. Canonico conta di chiudere il cerchio nel giro di pochi giorni. Oggi intanto è il termine ultimo per l'iscrizione al prossimo campionato. Il Foggia ha ufficializzato già nei giorni scorsi la presentazione della domanda, correlata da fideiussione, tutta la documentazione utile. Si attende intanto la decisione degli imprenditori locali che nelle scorse settimane provarono, senza riuscirci, a rilevare il club. Nelle prossime ore dovrebbero sciogliere le riserve e decidere se accogliere l'invito della sindaca Maria Ida Episcopo che li ha sollecitati comunque a restare accanto alla società rossonera anche mediante forma di sponsorizzazioni.